C'è un video che sta girando sul web che sta spaventando tutti gli utenti riguardante una donna terrorizzata su un aereo ma vogliamo fare chiarezza, oggi andiamo a capire tutta la verità dietro questo mistero della donna che urla quell'uomo non è reale e scappa terrorizzata dall'aereo e ragazzi lascia l'intero volo i video che mostrano i passeggeri in stato confusionale su un aereo sono una dozzina in questi giorni ma il più recente episodio di crisi che si è diventato mega virale ha un risvolto sorprendentemente bizzarro il video mostra una donna che cerca frenaticamente di scendere da un aereo perché non ha visto il passeggero in fondo al velivolo che le sembrava non reale qua ora si cerca di trovare e capire cosa sia successo su quell'aereo il video mostra una donna che avverte le persone di un altro passeggero del volo che lei sostiene essere non reale parte di ciò che rende il video di tiktok così bizzarro è che la donna sembra essere perfettamente normale, ben vestita parla chiaramente e non sembra rientrare in nessuno degli stereotipi che normalmente renderebbero questo tipo di video così facile da liquidare e l'intensità e l'evidente paura con cui parla chiariscono una cosa qualunque cosa pensi di aver visto per lei non era reale me ne vado si sente dire con enfasi la donna mentre si dirige verso il corridoio dell'aereo e c'è un motivo per cui me ne vado e tutti possono crederci o non crederci visibilmente turbata la sua voce si contrae come se fosse sull'orlo delle lacrime mentre indica il resto dell'aereo poi lancia un ammonimento rassicurante a tutti i passeggeri dell'aereo che la guardano storditi potete sedervi su questo aereo e morire con loro oppure no io non lo farò adesso non si sa di preciso a che entità stesse parlando questa persona magari stava parlando con delle allucinazioni magari ha avuto solamente delle allucinazioni nella sua testa magari era avuto una crisi in quel momento questi sono dati che purtroppo non possiamo ancora saperlo almeno per ora il fatto più inquietante però è che tutti i passeggeri di quel volo non hanno avuto nemmeno il coraggio di andare a vedere effettivamente qual è la persona che sembrava alquanto strana nessuno si è voltato a vedere o magari anche la stessa persona, la stessa donna non ha assolutamente accennato dicendo quell'uomo o quella donna quell'uomo vestito di giallo quell'uomo vestito di rosso non ha assolutamente fatto nomi non ha assolutamente descritto nessuna persona quindi la verità dietro questo caso che mi viene in mente diciamo anche la più semplice di tutte è che questa donna ha avuto delle allucinazioni e non ha diciamo ragionato in tempo il da fare in modo che questa donna purtroppo ha diciamo ammesso questa verità ed è uscita dal volo la cosa più sconcertante come vi ho detto è la storia di passeggeri che sembrano alquanto normali non lo so con quale coraggio una persona ha iniziato a registrare ma questa persona purtroppo non ha mai diciamo ripreso la persona incriminata comunque lei dice sostiene di essere non reale allora diciamo che possiamo dirlo che in mezzo a noi ci possono essere delle persone che non sembrano reali delle persone che modo probabilmente avete già sentito parlare di questo discorso ovvero il discorso degli alieni mutiforme lo so è un discorso alquanto paradossale però diciamo che non è assolutamente da scartare in questo caso ma molto probabilmente la donna soffriva di qualche paralisi o comunque ha avuto una qualche allucinazione di qualche tipo anche se purtroppo non abbiamo tantissimi dati a riguardo ma se vi iscrivete a questo canale e lasciate tanti like sotto questo video andrò a capire ancora meglio di che cosa è successo e se quella persona ha avuto magari delle vere allucinazioni o se veramente c'è un fondo di qualcosa sotto ma da quello che sappiamo adesso la verità che sappiamo finora è che la donna ha purtroppo dei problemi mentali fatemi sapere cosa ne pensate di questo video se è stato di vostro gradimento vi ricordo di lasciare tanti like qui sotto ma Timito è sempre qui a trovare nuovi misteri per voi mi raccomando datemi anche qualche commento qui sotto su quale argomento portare nel prossimo video se volete vedere magari ancora questo argomento qua così andiamo a approfondirlo ancora di più mi raccomando scrivetemi qui sotto e mi raccomando il like grazie ragazzi per la visione e ci becchiamo alla prossima ciao a tutti